La polisportiva dilettantistica Integrabili ha portato a Sanremo una gara di handbike, di una qualità sportiva molto elevata, carica di agonismo e spettacolarità. Giunta alla sua quinta edizione, la gara ha assunto una valenza nazionale e quest'anno ha costituito l'ultima tappa del campionato italiano di società della categoria, richiamando un folto numero di partecipanti. Ai nostri di partenza 59 handbikers appartenenti a 24 società provenienti da tutte le regioni italiane, che si sono cimentati su un circuito molto apprezzato, sostanzialmente pianeggiante, ma altamente tecnico ed impegnativo. La categoria MH3 ha dominato la gara fin dalle sue prime battute e Claudio Conforti sin dall'inizio ha guadagnato la prima postazione, affermandosi vincitore assoluto.